I bandi 2020 della Fondazione Manodori sono uno strumento per sostenere anziani, persone sole, bambini e giovani progetti di comunità. Chi sono i vostri interlocutori? Tutta la comunità, tutti coloro che operano al servizio della comunità. Il welfare di comunità sarà il tema del bando Welcome del nuovo anno, con tre laboratori rivolti alla tutela delle persone vulnerabili, al pianeta giovani, alle aree periferiche e alle zone montane. Fondato sull'idea di andare a sostenere le nuove fragilità sociali. Per Welcome sappiamo che abbiamo erogato circa un milione di euro nel triennio precedente. Poi c'è il bando per la povertà educativa contro l'abbandono scolastico, su cui la Fondazione ha già investito quasi due milioni e mezzo di euro. Che è un bando nazionale a cui partecipiamo e che ovviamente fa confluire risorse della Fondazione in un contenitore nazionale che è la Fondazione Noi con i Bambini. Infine il bando Cresco che ha dato frutti come l'inaugurazione della nuova mensa del Vescovo, un centro di ascolto della Caritas nel Palazzo Vescovile, la Biblioteca dei Canonici, la ristrutturazione del Teatro Artigiano di Massensatico. La Fondazione mette 500 mila euro come deposito cauzionale e questi vengono quadruplicati per poter dare ancora sostegno a iniziative che abbiano dei risvolti sociali consistenti. In estrema sintesi lo stato di salute della Fondazione com'è in questo momento? Da medico posso dire che secondo me è buono, è un paziente di mezza età che si tiene in forma e che ha ottime prospettive.